Corrispondenza dal fronte tunisino. Camminamenti di collegamento sono scavati fra i diversi centri difensivi. Si stendono ampie zone di reticolati. Una vedetta dall'allarme. Si abbandonano i badili e le palle per imbracciare i fucili e puntare le mitragliatrici e i pezzi contro carro. Tutta la linea è pronta al combattimento. Trafiche di mitraglia, salve di mortai e di cannoni contattano l'attacco nemico. Squadre di lanciafiamme si apprestano l'azione. Al contrattacco. L'apprestamento difensivo nemico esige l'impiego dei lanciafiamme. Malgrado la violenta reazione della figlieria avversaria, i nostri tengono duro sulle posizioni conquistate. Nostre unità corazzate entrano in azione. Dall'altura conquistata i carri scendono nella pianura sottostante. I carri continuano ad incalzare l'avversario col fuoco delle armi di bordo. Sul terreno della battaglia bruciano i carri nemici. I prigionieri nordamericani sembrano molto disillusi. Forse si sono accorti che la guerra è molto più astra di come l'ha dipinta con rose e i colori la propaganda nemica.